Musica Lo scorso 7 gennaio ha debutato su Rai 1 la compagnia del cigno fiction in sei puntate scritta da Ivan Cotroneo racconta la storia di sette ragazzi tra i 15 e i 18 anni che studiano al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e del loro difficile rapporto con un direttore d'orchestra col carattere particolare severo le loro storie si intrecciano con quelle dei protagonisti principali interpretati da Anna Valle, Alessio Boni nel ruolo del maestro Luca Marioni Alessandro Roia, Claudia Potenza, Giorgio Pasotti, Rocco Tanica, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Marco Bocci e Giovanna Mezzogiorno tra i protagonisti, i giovani protagonisti, tutti studenti di musica anche nella vita reale c'è Chiara Pia Aurora musicista di Ciottene di Trani che interpreta Sofia, ben trovata Ciao, ciao a tutti, grazie Allora, Chiara studia violoncello, sorella di Scheggia, ovvero Nicola Sorzella, innamorata di Matteo, Leonardo Mazzarotto Sofria sembra avere un rapporto conflittuale con il cibo, tanto da essere stata vittima di bullismo anche in tenera età l'unico rifugio per Sofia è la musica che le permette di evadere dall'indifferenza degli altri e sentirsi speciale in estremissima sintesi la figura di Sofia e partiamo dall'inizio, Chiara Pia, come è nata questa idea? intanto tu nella vita reale appunto sei una musicista, studia il conservatorio di Monopoli nella classe di violoncello del maestro Marcello Forte, studia anche Alicio De Santis di Trani scienze umane, quindi insomma una perfetta, come dire, adolescente, anzi ormai ho più di 18 anni, giovane di questi tempi come ti sei trovata catapultata in questa realtà? vabbè io nasco come musicista, l'hai detto tu, in realtà non credevo che la musica poi mi avrebbe portata da qualche parte oddio, pensavo sempre a un percorso musicale, ho sempre visto il tutto come un percorso musicale perché il mio progetto principale è quello di insegnare musica però c'è stato questo progetto che è entrato a far parte della mia vita per puro caso il giorno dopo il mio diciassettesimo compleanno questa mia amica mi ha mandato uno screenshot dei casting di queste richieste di sette musicisti che giravano un po' su internet musicisti che avessero un livello medio alto ma che non avessero esperienze di recitazione il primo passo era mandare una mail con un piccolo percorso musicale fino a quel momento mio e delle foto con il mio strumento allora io lì ovviamente non avevo grandi aspettative riguardo questa cosa perché ovviamente la vedevo come una cosa molto più grande di me e anche della realtà quasi realizzabile però l'ho mandata e ho aspettato che arrivasse una risposta che poi è arrivata dopo una settimana e lì mi hanno chiesto di fare questo primo casting dove ho suonato e basta invece il secondo dove ho conosciuto il regista della serie Ivan Cotroneo lì è stata la prima volta in tutta la mia vita che io ho recitato e cantato e poi ho fatto un altro provino per la Rai invece dove mi hanno fatto suonare, cantare e recitare insieme e lì poi è stato l'ultimo, è arrivata una risposta positiva dopo due settimane che avevano scelta per il ruolo di Sofia dove e quando avete registrato? questa fiction quindi nasce nel 2017? in realtà è nata due anni fa perché c'è stata questa idea del regista che ha visto questo quartetto da archi di giovani suonare e allora lì gli è venuta l'idea di lavorare su un progetto tutto sui giovani e sulla musica però noi abbiamo iniziato a lavorare da gennaio del 2018 proprio dalla prima settimana quindi quasi un anno di lavorazione praticamente a gennaio sì, dopo neanche un anno esattamente un anno e che effetto ti ha fatto innanzitutto lavorare ovviamente in una compagnia di questo tipo poi trovarsi catapultati nella rete ammiraglia credo che sia una grande soddisfazione poi a prescindere dai cosiddetti numeri cioè dai risultati che poi ogni puntata caratterizzano i commenti della serie precedente però al di là di tutto è stata comunque una soddisfazione assolutamente sì perché ripeto sono realtà che comunque uno non si aspetta mai di poter conoscere è stato molto bello e anche molto particolare perché noi tendiamo proprio almeno io ho sempre pensato a queste cose come un po' anche distaccate cioè persone raggiungibili, persone di una certa importanza come ad esempio Alessio Boni però poi il bello è che quando le conosci e ci lavori insieme capisci che in realtà sono persone come noi e sono stati anche molto gentili perché ci hanno appunto aiutati ad ambientarci sul set anche perché come ho detto presentandoti siete appunto musicisti e non avete esperienze di recitazione no, non siete no, cioè oddio solo due di noi avevano già esperienze di recitazione noi invece gli altri cinque no, abbiamo dovuto montare i nostri personaggi in una settimana e mettere insieme quelle poche o nulle praticamente conoscenze che avevamo riguardo alla recitazione però secondo me un po' il nostro lavoro l'abbiamo fatto bene perché sono contenta che adesso stia arrivando un po' di quello a cui abbiamo lavorato alla gente che la sta guardando Raccontaci il personaggio appunto di Sofia Sofia è come dire ha iniziato questo percorso come personaggio in maniera molto silente per avere un espluato nella puntata del 21 gennaio diventa la protagonista reale Raccontavo prima rapporto conflittuale con il cibo, vittime di bullismo so anche che hai ricevuto anche dei commenti, delle lettere anche attraverso i social che di ragazze, di giovani che si sono in qualche modo ritrovati con il tuo personaggio Sì, Sofia è come si vede nella prima puntata durante la scena di Two Colors è vittima di bullismo quando è molto piccola proprio per questo rapporto che ha con il conflittuale, con il cibo che in realtà è una sorta di valvola di sfogo insieme alla musica quindi sì, ovviamente è stato difficile da quel punto di vista interpretarla perché mi rendevo conto girando alcune scene che mi stavo facendo portavoce anche di molte ragazze e molte persone che si sentono così e poi questo, cioè mi è arrivata la conferma infatti durante le puntate perché molte persone mi hanno scritto parte delle loro storie, dei momenti più difficili delle loro vite che poi nella maggior parte dei casi sono stati proprio momenti che l'hanno portato ad avvicinarsi alla musica quindi lì ho capito veramente quanto sia importante al di là dei numeri, come dicevamo prima del fatto che 5 milioni guardino le puntate ogni sera di come sia importante per le persone vedere un qualcosa che le rappresenti e che parli di loro anche se non sono loro in prima persona i protagonisti Bella anche l'idea di rendere protagonista la musica la musica che può sembrare così lontana intendiamo studiare musica quindi percorsi di crescita, di studio, di fatica, di sacrifici perché poi questo è l'elemento che il maestro in maniera burbera racconta, cerca di trasmettere appunto ai suoi alunni forti sacrifici, non esiste nient'altro che questo esiste la musica e quanto ciascun musicista poi dà alla musica quindi tantissimi sacrifici, ti sei ritrovata in questo immagino? Assolutamente sì perché ovviamente la musica è un mondo che richiede tantissimi sacrifici si fa una sorta di investimento, no? Si investe parte della propria vita per studiare uno strumento per studiare musica per poi avere un riscontro nel futuro che nel mio caso è arrivato con questa fiction però io spero arrivi anche in futuro sicuramente mi piacerebbe poter conciliare sia la recitazione che la musica e sarebbe veramente un obiettivo riuscire a fare entrambi soprattutto pensando al fatto che grazie a questa fiction sono riuscita ad entrare, ad esplorare un mondo che comunque non conoscevo che è quello appunto della recitazione e comunque si richiede molti sacrifici perché soprattutto soprattutto se si parla di adolescenti si fanno delle rinunce legate proprio a quell'età ad esempio uscire con gli amici, fare tardi oppure prendere il treno tante volte a settimana per andare al conservatorio le ore di studio che bisogna conciliare poi con la scuola questa è una realtà che mi confronto tutti i giorni praticamente ma non è solo per me così è anche per tutti i musicisti Ci raccontavi della storia appunto di Sofia di quanto poi diventi protagonista in questa puntata del 21 gennaio scorso intanto una puntata che ha sbaragliato anche Adrian in contemporanea appunto sulle reti Mediaset share del 21,4% ma poi alla fine vi ha interessato il riscontro diciamo del pubblico cioè è qualcosa che tocca anche voi? Tocca a noi assolutamente sì perché ad esempio io non avendo mai lavorato in un mondo del genere io ero molto in ansia per questo progetto io l'ho amato fin da subito perché ovviamente ero un po' di parte cioè la musica, la musica pop che si incontra con la musica classica però c'era sempre questa preoccupazione, questa ansia in ognuno di noi perché portare la musica classica in televisione come lo fa questo progetto è stata una grande scommessa è una grande scommessa e quindi c'era questa paura che gran parte della gente non capisse in realtà il messaggio che volevamo dare però la maggior parte è riuscita comunque a entrare nelle vite dei personaggi a capire il messaggio di ogni personaggio e anche il messaggio che in realtà si propone di dare questa fiction che è quello comunque di inseguire degli obiettivi e soprattutto di dare forma ai sogni anche un po' e anche di dare molta importanza all'amicizia perché si parla di amicizia, di amore in realtà poi si toccano anche i grandi temi dalla malattia, il terremoto di Amatrice che è stato ovviamente un fatto gravissimo che ha segnato appunto la vita di questo paese e che ti trova appunto protagonista in questa parte appunto della fiction Chiara Pia, se ti dico mica tu hai detto l'incontro pop-musica classica protagonista anche mica non in maniera attoriale ma in quanto compositore della sigla della sigla sì e anche un po' dal punto di vista attoriale abbiamo avuto, ho avuto questo enorme regalo dal regista Ivan Cotroneo a cui avevo praticamente detto proprio la prima volta che ci incontrammo tutti e sette che Mika in realtà è sempre stato il mio cantante preferito è sempre stato il mio idolo la quale avevo otto anni lui in realtà, cioè non credevo l'avesse preso così seriamente questa cosa mi aveva detto ah vabbè dai allora te lo faccio conoscere capiterà che ti presenterò a lui però non avrei mai pensato di lavorarci insieme quindi abbiamo avuto questa giornata di lavoro insieme sul set io e lui ci siamo conosciuti abbiamo potuto lavorare su una scena che alla fine è stata una delle mie scene più belle e lui sì ha potuto sperimentare questo mondo della recitazione in cui comunque anche io non avevo esperienza quindi ci siamo aiutati a vicenda praticamente è stato molto divertente è una bella persona è una bella persona sicuramente è amabile chiaro a tutti si è avvicinata alla musica molto presto quindi è davvero un lungo corso di studi il tuo adesso ovviamente con quest'altra esperienza guardando verso il futuro che cosa vedi? io guardando verso il futuro la prima cosa che mi sento dire è che purtroppo mi vedo lontana da qui purtroppo perché vabbè ci sono la mia famiglia, i miei amici ovviamente ho vissuto 18 anni della mia vita qui quindi sei già proiettata da lontana? sono proiettata a Milano, mi vedo a studiare al Conservatorio di Milano almeno è un mio progetto spero veramente di portarlo a termine perché è veramente una realtà che ho potuto conoscere tramite la fiction abbiamo girato nel Conservatorio di Milano per quattro mesi a Milano anche in città è una città che mi piace tantissimo il Conservatorio è un luogo veramente dove si fa musica sempre e io spero di fare musica sempre nella mia vita però con uno sguardo anche alla recitazione esatto, sì sai che papà che dice di questo? mio padre ma anche la mia famiglia sono tutti felici loro sono stati fin da subito anche più felici di me perché io l'ho presa anche un po' come una cosa spaventosa essere molto più grande, sono dovuta partire c'è stato un momento in cui hai vissuto uno scoramento? assolutamente sì è successo la prima settimana che ero a Milano perché vabbè prima settimana e tutti i giorni eri sola? sì ero sola perché mia madre era tornata giù e quindi ero con questi, con i ragazzi che erano in albergo con me poi ovviamente quando c'era mia madre era tutto più semplice perché parlavo con lei, lei mi è stata vicina tante volte però quella prima settimana è stata dura perché ovviamente Milano è una città difficile da vivere in un primo momento fa freddo, noi siamo capitate lì a febbraio il periodo più freddo e non sapevamo come muoverci non sapevamo prendere la metro quindi eravamo lì confinati nel residence però poi c'è stata una sera in cui ho detto vabbè basta usciamo, andiamo al Duomo di Milano e da lì poi abbiamo imparato a conoscerla e c'è anche una scena che richiama poi il Duomo di Milano e tu che suoni il tuo strumento con appunto True Colors Chiara ovviamente in bocca al lupo per tutto che i tuoi sogni possano avvenarsi una piccola digressione Chiara Pia e al papà giornalista e Nico Aurora che ringraziamo ovviamente per avercela portata in studio e insomma la soddisfazione di vedere una ragazza come dire impegnata sul fronte dello studio doppio studio come dicevamo sia a scuola che a liceo sia il conservatorio insomma è il raggiungimento di un risultato di una soddisfazione importante non solo per te ma anche per tutti quelli che credono fortemente in te e quindi ho voluto dedicare proprio questa seconda puntata proprio ad una storia bella di questa terra che spero davvero abbia ti porti insomma il più lontano possibile non dai tuoi cari ovviamente ma per inseguire i tuoi sogni intanto la compagnia del Cigno diventa anche un libro Sì, la compagnia del Cigno diventa un libro unico perché sono già usciti sette volumi su ognuno di noi, su ogni personaggio però dal 5 di febbraio uscirà questo libro un po' riassuntivo che si chiama La storia di una grande amicizia proprio a sottolineare questo legame fantastico che c'è fra i personaggi ma che c'è anche fra noi sette che siamo protagonisti di questo meraviglioso progetto In bocca al lupo si pensa già a un sequel? Ce l'abbiamo in mente vediamo come va nel complesso però sarebbe molto bello continuarla davvero speriamo In bocca al lupo Grazie Com'è Alessio Boni? Molto bello Molto bello e molto bravo Non avevo dubbi Non avevo dubbi Grazie Chiara Pia per essere stata Grazie a voi Con noi In bocca al lupo ancora Grazie a tutti Grazie a tutti